Salve a tutti e bentrovati in un nuovo video, sono TNBT ed oggi torniamo a parlare finalmente di One Piece perché è uscito ieri sera, mi sono letto la versione inglese e oggi quella italiana, il capitolo 1125 intitolato Come definire la morte. Ora, prima di cominciare con il video come al solito 10 secondi per dirvi di iscrivervi al canale e di lasciare un like qui sotto perché a voi non costa niente e a me fate un grosso favore. Per il resto, in descrizione vi lascio anche tutti i miei libri per chi volesse dare una lettura, ve li lascio qui. Chiusa parentesi, ragazzi, che dire, capitolo 1125 era da tanto che non mi gassavo così per un capitolo di One Piece, sono sincero ho sempre recensito i capitoli ultimamente con un certo distacco, nel senso che tutta questa storia del messaggio di Vegapunk sì, mi è piaciuto, ma l'ho trovato un pochino tirato nel senso che a mio, ovviamente, modesto parere, la questione poteva essere forse risolta un pochino più velocemente per quanto riguarda tutto il discorso del messaggio, eccetera l'ho trovato un pochino, alcuni capitoli un po' ripetitivi ma questo 1125 veramente ci lascia con un hype smisurato un hype smisurato, tant'è che io, quando sono arrivato alla fine del capitolo e ho visto che effettivamente settimana prossima non c'è pausa sono rimasto quasi colpito, no? Perché questo è il classico capitolo, secondo me dove normalmente Oda, quando ci lascia un capitolo così, è perché poi arriva la pausa generalmente, questo potrebbe essere il classico capitolo pre-pausa dove appunto ci lascia con un colpo di scena, una bomba finale e poi ci fa, diciamo, arrovellare per un paio di settimane nei commenti, nei forum, eccetera mentre settimana prossima non c'è pausa, quindi tanta roba e chissà che il prossimo magari sarà un capitolo anch'esso di questo livello ora non voglio farmi troppe previsioni, troppe aspettative alte sulle previsioni del prossimo capitolo ma insomma, tanta roba, che dire finalmente la saga di Haggad si chiude e si chiude, devo dire, con il botto in tutti i sensi, perché noi abbiamo praticamente la marina alle prese con un grosso problema il problema appunto è Saint Saturn questo personaggio che è stato il primo ad arrivare su Haggad non so se vi ricordate, in alcuni miei video tempo fa io avevo paragonato, scherzosamente ma neanche troppo la figura di Saint Saturn a quella di Blueno se vi ricordate, a Ennis Lobby Blueno è il primo membro del CP9 a cadere appunto sotto i colpi del Ger Second prima di tutti gli altri prima che poi la ciurma affronti il resto e Luci alla fine venga sconfitto da Rufi Blueno è stato un po' l'antipasto del CP9 ecco, allo stesso modo io credevo sostenevo che Saturn dovesse essere l'antipasto degli astri di saggezza per questo motivo quando poi tutti gli astri si sono catapultati a sono stati teletrasportati a Haggad ero rimasto un pochino di sasso non so chi di voi aveva visto i miei video ma insomma mi ero stupito perché pensavo ne bastasse uno e tra l'altro ero sicuro che dovesse essere sconfitto quando poi sono arrivati anche gli altri astri e nessuno di loro è stato sconfitto da Rufi la cosa mi aveva un pochino destabilizzato perché non capivo bene dove Oda volesse andare a parare ecco, dove voleva andare a parare Oda lo abbiamo visto con questo 1125 ragazzi che capitolo che capitolo veramente noi vediamo prima Saturn distruggere praticamente con il pensiero con i suoi poteri in un secondo il vice ammiraglio Doberman che si permette di fare una domanda in più e quindi si permette quasi di valicare quel velo di confidenza che non deve esserci abbiamo visto ormai non deve esserci tra marina e governo e nonostante sia comunque un rappresentante di alto rango quindi un vice ammiraglio una sola parola in più costa praticamente a lui la vita ora non sappiamo se sia morto o meno però insomma diamo per buono quello che si vede nel capitolo di fronte a un Saturn che non mostra pietà e allo stesso tempo abbiamo visto quanto invece è fragile anche un personaggio che sembrava indistruttibile alla luce degli eventi di Haggad come Saturn stesso cancellato in un secondo ora si potrebbero fare tante analisi su quello che abbiamo visto in primo luogo ecco il passato di Saturn abbiamo avuto un piccolo flashback quindi abbiamo visto che lui 200 anni fa è stato in qualche modo responsabile della conservazione del gigante di ferro e quindi in un certo senso questo anche giustifica la sua fine ma veramente la scena dove Saturn viene disintegrato polverizzato a distanza da Im Sama è qualcosa di terrificante e potentissimo e come avevamo già detto tanto tempo fa nella prima come avevo detto anch'io nella prima volta diciamo nella prima apparizione in cui ci vengono mostrati gli astri di saggezza mi sembra chiaro a questo punto che come avevo detto appunto a suo tempo il potere dei cinque astri deriva direttamente da Im cioè sono strettamente correlati i cinque astri non sono assolutamente personaggi che hanno diciamo un potere in comune con Im ma il loro potere anzi è esclusivamente donato da Im che può decidere in qualunque momento di togliergli la vita ecco abbiamo visto praticamente Saturn invecchiare di probabilmente non lo so 800 anni o quelli che sono in un secondo nel flashback 200 anni fa Saturn è uguale ad adesso e in pochi secondi invecchia rapidamente quindi io credo a questo punto che l'immortalità o meglio la prolungata giovinezza dei cinque astri sia chiaramente una emanazione e una conseguenza del potere di Im che a questo punto probabilmente ha un frutto un frutto del diavolo che è legato a questo discorso qui è legato all'immortalità o all'eterna giovinezza ora non so bene dire specificamente che tipo di potere può essere ma se può togliere la vita così facilmente può far invecchiare un corpo che si è conservato intatto e comunque giovane tra virgolette per tutto questo tempo è chiaro che questo potere dell'invecchiamento o del mantenimento della giovinezza deriva da Im stesso quindi è quasi come se Oda ci ha voluto dare una conferma di questa cosa quindi probabilmente Im ha questo potere un potere legato allo scorrere del tempo e all'invecchiamento e a tutte queste cose qui non so se è un potere derivante dal frutto o da altro ma credo che sia proprio il caso e la scena dove Garling entra parliamo un attimo della scena dove Garling entra praticamente prende il posto di Saturn Spavaldo si piazza lì sul trono sulla sedia sfidando quasi gli altri astri persone che fino a quel momento doveva guardare appunto verso cui doveva rivolgersi con reverenza e adesso lo vediamo Spavaldo trattarli veramente alla pari tant'è che gli altri gli astri non capiscono all'inizio non si rendono conto di quello che sta succedendo e poi lo vediamo uno di loro appunto con le goccioline di sudore del fatto che se la stanno facendo sotto cioè gli astri di saggezza si stanno facendo sotto perché si sono resi conto che non sono intoccabili come pensavano l'avvento di Joy Boy la nascita diciamo così l'arrivo del nuovo Joy Boy ha scombussolato tutto tutto l'ordine appunto mondiale è destinato a un periodo di stravolgimenti senza precedenti e anche loro che sono stati lì probabilmente fermi e immutati per secoli si rendono conto che adesso devono lavorare devono impegnarsi perché altrimenti possono fare la fine di Saturn da un momento all'altro e quindi se la stanno facendo sotto questa scena mi è piaciuta veramente tantissimo ora Garling invece molto spavaldo molto figo che arriva lì come per dire ragazzi è ora di finirla non si batte più la fiacca adesso si lavora ci sono io molto 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 figo molto spavaldo mi è piaciuta veramente tanto quella scena lì e ora vedremo vedremo dove vorrà andare a parare l'autore con questa scelta se ci sarà un cambiamento a livello proprio alto per quanto riguarda anche i draghi celesti se verrà se verrà data loro una svegliata anche a quei personaggi diciamo meno influenti come i Tenry Ubito che vediamo discutere sul cibo eccetera chissà se verrà cambiata anche un po' quella che è la loro abitudine non vedo l'ora veramente che Oda ci dica qualcosa in più su him e sulla famiglia di Garling però in ogni caso ragazzi questo capitolo ci ha fatto capire ancora di più quanto è importante e quanto è forte in Sama e quanto veramente sarà difficile probabilmente sconfiggerlo e probabilmente sarà lui il nemico finale di One Piece ora non so come gestirà il discorso Barba Nera se veramente Rufi e Barba Nera potranno arrivare a collaborare un giorno uniti contro him non lo so qui ovviamente stiamo nella pura fantascienza però ecco vedere un potere del genere come quello di him all'opera in questo capitolo mi ha veramente impressionato quindi mi viene difficile pensare che non possa essere lui il nemico finale della storia detto ciò la ciurma di Rufi è diretta ad Airbuff in questo capitolo non li vediamo praticamente per nulla vediamo un pochettino il discorso del punk records e dei dei vega punk superstiti che in qualche modo continueranno a portare avanti la coscienza e la conoscenza di vega punk in giro per il mondo soprattutto al momento nelle isole del cielo queste sono cose che noi appunto in qualche modo potevamo immaginarci per quanto riguarda York invece sarà una diretta sottoposta di Garling essendo lui il successore di Saturn e per il resto il capitolo si chiude anche qui in maniera un po' particolare con Dragon che per l'ennesima volta contempla l'orizzonte e fa un un discorso un po' filosofico un po' così ecco diciamo che non è la prima volta che vediamo Dragon riflettere in questi in questi termini ora speriamo che sia però la volta buona che questi questi termini vengano tradotti in azione ah mi stavo per dimenticare molto interessante anche il discorso che fa Ivankov per quanto riguarda i ponti di Tequila Wolf ma non solo ci sono quattro ponti che in tutti presumibilmente i quattro mari di One Piece sono ormai da 700 anni in costruzione e che servono probabilmente in vista di un'emergenza causata dall'innalzamento delle acque il tema dell'innalzamento delle acque lo abbiamo scoperto da poco con il discorso delle armi ancestrali e della distruzione delle isole in One Piece che causerebbe un innalzamento appunto del mare ecco questi ponti che sono in costruzione da secoli servirebbero proprio a questo e quindi qui è già una piccola grande rivelazione che Oda ci fa chiaramente nel 1125 quindi non è vero che Oda diciamo non dice mai nulla ecco anche questa è un'informazione abbastanza importante ora però voglio vedere quando sarà la prossima volta che Oda ci mostrerà rivoluzionari perché è già la terza la quarta volta che Dragon fa un discorso simile ma ora siamo arrivati al capitolo 1125 quindi penso che sia ora di tradurre questo genere di discorsi in azione quindi mi auguro che i rivoluzionari entrino di prepotenza nella storia principale di One Piece perché ora non vedo l'ora di vedere Dragon in azione di vedere qual è il suo potere e di capire un po' come verranno gestiti e come si muoveranno all'interno del macro universo di One Piece perché ci sono veramente tante fazioni e ci sarà un caos totale credo da qui alla fine del manga proprio per quanto riguarda gli schieramenti e le fazioni all'interno del mondo di One Piece fatemi sapere se anche a voi questo capitolo è piaciuto che idea vi siete fatti del potere di Im del discorso di Garling che entra a sostituire quindi rivelazione anche qui e cambiamento clamoroso nel mondo di One Piece fatemelo sapere come al solito nei commenti lasciate un like al video e niente ci vediamo ai prossimi video un saluto a tutti da TNBT ciao ciao